Le ultime parole del poeta Svegliati, svegliati e diventami amica Farfalla che sonnecchi Basho Nell'autunno della sua vita, Basho, il principe dei poeti del suo tempo, il cesellatore del laiku, che gli diede le sue lettere di nobiltà, nonostante la salute cagionevole, volle fare un ultimo viaggio. Di passaggio a Osaka dovete mettersi a letto con la febbre a casa di Kyorai, un vecchio amico. Le sue condizioni peggiorarono e tutto faceva pensare che non si sarebbe ristabilito. I discepoli lo incalzavano perché scrivesse il suo G6, la sua poesia da Dio, il suo testamento letterario. Impregnato di Zen, che praticava assiduamente da anni, lui rispose Ho composto ognuna delle mie poesie come se fosse l'ultima. Chiorai, al suo capezzale, insistette per sapere se l'aiku che il maestro aveva dettato alcuni giorni prima potesse essere considerato il suo G6 e lo recitò Ammalatomi in viaggio, il mio sogno cavalca ancora la pianura d'erba secca. Il poeta rispose Non so se mi sarà concesso di scriverne un altro. Una notte, Vasho chiamò uno degli amici per dettargli un nuovo haiku. Secondo alcuni, gli sarebbe stato ispirato dalla moglie del suo ospite, in omaggio ai suoi talenti di poetessa. Un crisantemo bianco, anche con uno sguardo penetrante, non un granello di polvere. Altri lo considerano per certo l'estrema testimonianza dello spirito incondizionato, di una percezione diretta della realtà. Una rivelazione della natura del Buddha in ogni cosa, poiché, secondo il Sutra del Loto, chi è illuminato vede il mondo puro e luminoso. Nei giorni successivi, il vecchio poeta, divorato dalla febbre, per lo più sonnecchiava e sembrava incapace di articolare la minima parola. Una sera, Vasho fu risvegliato dai suoi discepoli, che si agitavano intorno a lui. Tentavano di catturare le mosche che si agglomeravano sullo scioggi della sua camera. La porta scorrevole di carta di riso traslucida. Tra i sussulti di una grossa risata esclamò Queste mosche sembrano felici della cuccagna di aver trovato un vecchio poeta moribondo. Tali furono le ultime parole del poeta, che fino alla fine diede prova di humor e imperturbabilità. Un maestro del verbo, che per tutta la vita è immortalone i suoi haiku, istantanee delle sue illuminazioni, frammenti del grande mistero, riflessi dello specchio di questo mondo mutevole e simili a Koan. La morte che si avvicina, nessuno può sentirla nel canto dell'ecicale. Vasho